C'è l'accordo sulle intercettazioni, ovviamente stiamo lavorando ancora sui particolari, ci sarà una nuova verifica del testo, si prova ad arrivare nel Consiglio dei Ministri di sabato mattina con un testo definito, io credo non ci saranno problemi. È fatto salvo l'impianto della legge Orlando con dei correttivi, delle integrazioni molto importanti che riguardano anche il meccanismo di selezione della rilevanza delle conversazioni intercettate, della materia intercettata con un recupero virtuoso del ruolo del difensore, in contraddittore col pubblico ministero che rimane il dominus di quella fase, ma è previsto anche un momento di controllo giurisdizionale, cioè è prevista la possibilità di un intervento del giudice quando sulla rilevanza del materiale intercettato debba essere fatta una valutazione più approfondita. Un testo molto equilibrato, lo miglioriamo ancora e dovrebbe andare bene per il Consiglio dei Ministri di sabato. Per quanto riguarda la pubblicazione e la divulgazione delle intercettazioni, cambia qualcosa rispetto a quanto... La parte importante è che viene ovviamente immaginata una sequenza nella quale si sa esattamente coloro che manipoleranno le comunicazioni, le intercettazioni, le conversazioni tra privati e quindi la delicatezza della privacy verrà salvaguardata da un meccanismo di maggiore garanzia che ovviamente filtrerà anche le responsabilità circa le pubblicazioni improprie.